Prosegue a Vieste con grande successo il Libro Possibile, il più importante festival di cultura di piazza dell'estate italiana. Marilana Farinola Si è aperto ieri a Vieste il ricco cartellone di appuntamenti del Libro Possibile, il salotto letterario a cielo aperto. Quattro le date previste per la Perla del Gargano fino al 29 luglio. Quest'anno la rassegna è intitolata l'anno che verrà, un chiaro omaggio a Lucio Dalla, cittadino onorario di Vieste e profondo amante della terra pugliese, autentico gioiello di storia e bellezza naturale in cui il festival si inserisce con un'offerta culturale qualificata. La serata inaugurale nel centro storico in Piazzetta Petrone è stata aperta da Mario Tozzi con una pagina speciale dedicata all'attuale grave crisi idrica. Altri grandi ospiti ieri, l'ex magistrato Gerardo Colombo, il vincitore del premio strega Mario Desiati, l'attore comico Giobbe Covatta, Falco Terziani, scrittore documentarista e il direttore di Repubblica Maurizio Molinari. Io credo che dalla caduta del governo Draghi emerga l'immagine di un'Italia più debole, più vulnerabile, dove gli elementi populisti e sovranisti sono in grado ancora di condizionare la vita politica. Si pensava che il populismo e il sovranismo che in qualche maniera avrebbero un risultato positivo nelle urne nel 2018 grazie al successo di 5 Stelle e Lega e al termine della legislatura fossero stati in qualche maniera abbattuti e ridimensionati e i successi del governo Draghi lo hanno testimoniato, però il punto vero è che il populismo è come un fiume carzico che improvvisamente torna e sommerge quello che c'era prima. Quindi questo è un campanello d'allarme non solamente per il nostro paese secondo me, ma anche per l'Europa intera. A 30 anni dalle terribili stragi di mafia del 92, il libro possibile ripercorre le tappe cruciali della guerra alla criminalità organizzata con Roberto Scarpinato, storico magistrato antimafia ex componente del pool di Palermo, collega di Falcone Borsellino. Proseguono questa sera gli incontri con altri grandi nomi della giustizia e dell'attualità. Per citarne alcuni Pietro Grasso, Gianrico Carofiglio, Marco Travaglio.